allora buongiorno a tutti e vediamo un po gfg gun o gfp gun insomma non ricordo mai esattamente come si chiama comunque ho fatto un post dove ho spiegato come passare ad un'immagine a bassa risoluzione come questa qua che è un esempio un po' limite nel senso che lui ricostruisce la faccia ma la faccia non è ovviamente aderente a quella che era l'immagine originale nell'esempio che farò vedere adesso userò un'immagine un pochino meno drammatica iniziale e vedremo come cercherà di ricostruire ora questo vuol dire andare dentro un collab cioè un collab sarebbe un programma python che però è stato impacchettato e reso disponibile su google quindi cliccando là si ottiene un file adesso qui l'ho già chiamato qualche minuto fa in modo tale che io semplicemente vedete che qua fa gfp gun ecco qui fa vedere il tipo di cose che fa quindi passare ad un'immagine x ad un'immagine y gli effetti sono micidiali diciamo e fa vedere le altre alternative che erano disponibili perché gfp gun è da una vita che c'è quindi da almeno un anno quindi nell'informatica è tantissimo e quindi fa vedere che gfp gun è sostanzialmente migliore ora come si fa a fare? bisogna fare la preparazione quindi bisogna cliccare una volta ha avuto il google collab notebook si clicca in sequenza sulle celle ora non tutte le celle vanno cliccate noi clicchiamo questa quella che fa la preparations l'ho cliccata un po' prima ci ha piegato un minuto circa ha fatto tutto il suo mestiere ci ha piegato 53 secondi e poi mi chiede il punto 2 di fare l'upload dell'immagine quindi io ho cliccato prima questo la cella di preparation e poi faccio la cella che mi dice di upload images ora ci sono due celle qua una serve per se abbiamo un'immagine nostra e una per farla demo noi clicchiamo sull'immagine nostra perché? perché vogliamo dargli un'immagine nostra che è questa ad esempio quindi praticamente gli facciamo pescare l'immagine che era quella foto di un attore di un attore, credo questa cella come avevo accennato non la clicchiamo perché serve per importare un'immagine di demo e clicchiamo sicuramente sull'inference quindi sull'inference praticamente viene presa l'immagine e viene scalata a due ora in realtà io un'immagine come quella la farei un po' più grassa quindi con scalatura a otto quindi la faccio otto volte più grande dell'originale perché sedici l'avevo fatta con quella mia che era tremenda otto direi che è sufficiente per un'immagine di questo tipo altrimenti se si vuole solo migliorare un'immagine senza alterare la scala si può mettere "-s1", allora lui fa comunque il suo mestiere migliora leggermente l'immagine la fa sembrare più giusta questo soprattutto per immagini che vengono da AI ma comunque avete visto che si può fare anche con immagini autentiche solo di cui volete aumentare la risoluzione ora vedete che questo è in tempo reale quindi l'immagine originale che ha 70 no, questa è la velocità è un po' più piccola quindi l'immagine comunque era piccoletta lui ci lavora sopra fa il suo mestiere e il mestiere per vederlo dobbiamo andare avanti e quindi fare play su visualize quindi play su visualize ci fa vedere praticamente le facce che sono nella foto e ci fa vedere la faccia originale e la faccia taroccata con GFPGAN ora questa non è l'immagine nel senso che lui fa il riquadro e per ogni faccia umana genera un riquadro di questo tipo su cui lavora ora per vedere invece l'immagine veramente come gli abbiamo data facciamo un play sulla cella successiva e quindi otteniamo qui praticamente l'immagine veramente originale con l'immagine ritoccata ora se vogliamo a questo punto scaricare l'immagine che come vedete è stata ampiamente migliorata quindi direi che anche in questo caso l'effetto è micidiale e miracoloso come ho scritto nel mio posto possiamo scaricare il risultato quindi scaricare il risultato vuol dire lanciare questa mi ha lanciato un download.zip che diventa scaricato quindi dobbiamo aspettare che lui ci scarichi il download.zip ecco, ci ha scaricato quindi download.zip scaricato andiamo nella cartella la cartella ha un download.zip e dentro il download.zip adesso ve lo apro un secondo se ci riesco sarebbe praticamente è sul mio altro video però io lo apro con 7zip 7zip apri e dentro vedete praticamente il contenuto di questo file e dentro vedete tutti i risultati quindi vedete ad esempio l'immagine originale e i risultati soprattutto e nei risultati c'è le facce Restored Face e ci sono diciamo tutte le cose che servono in particolare le Restored Images serve questo qua se la prendiamo questa Restored Image adesso me l'ha fatta nell'altro schermo comunque sappiate che questa è l'immagine sotto Restored Images che lui ha effettivamente pascolato allora facciamo visualizzare proviamo a vedere se ce la facciamo icone grande ok non ce la fa vedere sto cercando di vedere di farvela vedere ma ok e questa qua è l'immagine che in realtà è stata amplificata parecchio e quindi la vedete praticamente qua e questo è quanto quindi l'ho aumentata l'ho aumentata la risoluzione di 8 volte con GFPGAN senza avere una scheda grafica quindi la potete fare virtualmente anche da un cellulare e avete ottenuto questo tipo di miglioramento dell'immagine e questo è tutto è tutto